Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale, continuata per l'intera giornata la discussione in consiglio regionale del bilancio e la legge finanziaria. Vediamo come è andata nel servizio di Giovanni Minicozzi. In un clima da campagna elettorale in consiglio regionale è continuata la discussione sul documento di finanza pubblica, sulla legge finanziaria e sul bilancio preventivo per l'anno in corso. La minoranza ha presentato 61 emendamenti, alcuni dei quali sono stati approvati dall'Aula, ma il giudizio negativo non è cambiato. Da premettere che ci troviamo un bilancio con un sostegno diverso rispetto ai periodi precedenti da parte del Governo centrale, quindi con 42 milioni di euro e meno, però credo che l'atto di indirizzo politico che è stato dato da parte di questa maggioranza sia un atto di indirizzo politico errato, in quanto non contempla quelle che sono le esigenze e le stanze che provengono da veri territori molisani. Un bilancio poco attento alle politiche sociali, allo sport, all'economia soprattutto in questo momento non stagnante ma di profonda recessione. Credo che se avessero potuto avrebbero potuto fare qualcosa in più. La maggioranza dal canto suo, dopo aver subito in mattinata l'approvazione del primo emendamento presentato da Michele Pedraroia al fine di incentivare le risorse sulle politiche sociali, ha sospeso la seduta consigliare e per l'intera mattinata si è riunita allo scopo di serrare le file. Al termine del vertice, coordinato dal Presidente Michele Iorio, i lavori pomeridiani sono proseguiti in modo più spedito anche per effetto della ritrovata unità sancita con una serie di emendamenti condivisi. Comunque sul bilancio della Regione pesano gli effetti dei tagli ai trasferimenti e su alcuni servizi essenziali operati dal Governo centrale. Noi ci rendiamo conto che questo bilancio è un bilancio basato molto sul rigore per una serie lunga di motivi. Chiaramente un bilancio così fatto poi finisce con non dare le risposte necessarie a tutta una serie di problematiche, però ci troviamo stretti in un momento particolare in cui i trasferimenti statali sono enormemente ridimensionati rispetto al passato e nel frattempo abbiamo una struttura regionale ed extra regionale, enti e altri organismi che purtroppo hanno un costo che noi siamo costretti comunque a mantenere. Per cui è ancora più urgente valutare una riorganizzazione complessiva perché sarà necessario da subito ridurre enormemente i costi. A meno di eclatanti sorprese, i documenti contabili verranno approvati dalla sola maggioranza nel corso della notte, mentre la minoranza voterà contro. E come è previsto nel servizio, l'Aula di Palazzo Moffa ha approvato a maggioranza il documento di finanza pubblica, la finanziaria e il bilancio preventivo per l'anno in corso. Il servizio di Rai News dal titolo Molise, maxi spese per microregione curato da Flaviano Masella, è stato bloccato su segnalazione del governatore Michele Iorio. La denuncia è arrivata dal comitato di redazione di Rai News mercoledì sera. Hanno ricordato un nostro vice direttore ha ricevuto una chiamata e successivamente una mail dai piani alti di Viale Mazzini che chiedeva di fermare la messa in onda del programma, motivo violazione della par condicio su segnalazione del presidente del Molise. Rifondazione comunista Verdi, Cambiare si può, Alba e Laboratorio progressista hanno scelto il candidato presidente per la regione e Antonio De Lellis, professionista termolese, già responsabile pastorale del lavoro nella diocesi di Termoli. Sentiamo ancora Giovanni Minicozzi. Dopo un lungo percorso democratico che ha coinvolto associazioni e cittadini, i movimenti civici, Laboratorio progressista, Alba, Cambiare si può, insieme ai Verdi e a Rifondazione Comunista collegati agli arancioni di Antonino Ingroia, hanno scelto il candidato presidente per le prossime elezioni regionali. È il professionista termolese Antonio De Lellis, cattolico, già responsabile pastorale del lavoro alla diocesi di Termoli. Dunque, dopo Antonio Federico, Michele Iorio, Massimo Romano e Paolo Frattura, De Lellis è il quinto aspirante presidente. Bisognerà attendere le decisioni dei centristi UDC, ADC e Udeur per conoscere l'eventuale sesto candidato. Rispetto alla cordata nazionale che sostiene Antonino Ingroia però, nel gruppo molisano messo insieme da De Lellis mancano i comunisti italiani e l'Italia dei Valori che invece si sono schierati con Paolo Frattura. Il percorso democratico che ci ha condotto fino a questo punto e che ha designato me come presidente è un percorso all'interno dei movimenti sociali del Molise. Raccoglie i percorsi, le battaglie di questi ultimi anni e vuole essere un po' un segno di discontinuità rispetto alla politica regionale clientelare e sostanzialmente accondiscendente alle logiche liberiste. Il nostro movimento è un movimento antiliberista e per i beni comuni. Per quale motivo vi distingue dal centro-sinistra e non c'è stata questa unità? Questa lista in realtà è di sinistra, nasce con l'appoggio dei partiti di sinistra ma è fortemente inclusiva e vuole soprattutto coinvolgere quei cittadini molisani che hanno deciso di non andare a votare, che si sentono non rappresentati, che sono disaffezionati. Rispetto a questo percorso che parte dai movimenti sociali e dalla società, noi pensiamo che un partito che non ha ascoltato, non ha assunto, non ha fatto proprio il messaggio sull'importanza dei beni comuni, sull'antiliberismo e proprio il PD. La lista di Antonio Delellis si chiamerà Rivoluzione Democratica. Una lettera aperta ai politici con dei suggerimenti per una nuova fase di crescita del territorio l'ha presentata oggi in Curia a Campobasso l'Arcivescovo Bregantini, il servizio di Giuseppe Lanese. Un cuore nuovo più che faccia e nuove, oltre alla coerenza sia nei contenuti che nella prassi. L'Arci diocesi di Campobasso Boiano apre le porte al dialogo con tutti i candidati alle prossime elezioni e offre una serie di suggerimenti per gestire e non subire, è stato detto, il delicato momento elettorale. Lo fa con una lettera aperta ai politici firmata dalla consulta diocesana delle aggregazioni laiche e presentata dall'Arcivescovo Giancarlo Bregantini. All'appuntamento hanno partecipato anche esponenti del mondo bancario e cooperativo. La lettera si intitola Dalla parte dei miti e i miti, come ha spiegato Bregantini, sono coloro che intrecciano bene la meta con il giusto passo. La persona mite è sempre vincente, ha aggiunto l'Arcivescovo. Una proposta basata su cinque punti che toccano da vicino l'aspetto antropologico-spirituale, la dimensione etica, quella culturale, politica e economica. Di cosa ha bisogno il Molise in questo momento? Ha bisogno di indicazioni chiare e di proposte concrete, però basate su due grandi principi. Primo, nessuno da solo risolverà i problemi del Molise, ma ogni partito, pur proponendo il suo programma, deve tenerlo sempre aperto alla collaborazione con gli altri. Secondo, ogni programma deve essere fortemente radicato sui bisogni del territorio. Tra i punti principali della lettera rivolta ai politici c'è l'aspetto dei giovani, della famiglia e del lavoro. Preoccupa soprattutto la precarietà e la mancanza di occupazione. Non possiamo essere così succubi del problema, ma dobbiamo pensare, ecco perché noi chiediamo che ogni partito metta come primo punto il servizio del territorio e lo sguardo alla precarietà giovanile, con le formule che ogni partito potrà suggerire. Bregantini presenterà la lettera direttamente ai politici in un incontro in programma il prossimo 18 gennaio. L'appuntamento è allargato anche ai comitati e alle associazioni del territorio, ma l'arcivescovo già pensa al dopo elezioni. Mettiamo in una specie di sinergia, una specie di forum, potremmo chiamarlo così, chi è eletto al Senato dal Molise, chi è eletto alla Cabera, chi è eletto in Regione, in modo tale da poter dire creiamo mensilmente un forum che dia la possibilità di ridiscutere attorno ai problemi mettendoci insieme davanti alle situazioni. Sittin di protesta oggi davanti la Fondazione Giovanni Paolo II a Campobasso a protestare diversi dipendenti, infermieri che chiedono chiarezza sul contratto e si oppongono all'intenzione di licenziare circa 50 addetti. Il servizio. Volantini in mano, striscioni affissi ai lati della strada gazebo e fuochi accesi per ripararsi dal freddo, la protesta degli infermieri e gli addetti della Fondazione Giovanni Paolo II davanti alla struttura, temono per il loro futuro e dicono per quello del centro di cura e ricerca, contestano una condizione di precarietà per loro che si è determinata, spiegano, negli ultimi tre anni c'è la questione del contratto. Ho approvato due anni orsono circa che prevedeva un contratto pubblico che prevedeva determinate indennità e adesso vogliono innanzitutto peggiorare questo tipo di contratto, per questo motivo, per questa ragione ci sarebbe un peggioramento dal punto di vista economico in quanto perderemmo numerose indennità, lo stipendio sarebbe decurtato in maniera molto evidente e sicuramente un contratto IOP che gli accordi non prevedevano. L'altra questione spinosa riguarda, dicono ancora i manifestanti, l'intenzione della direzione dell'ex cattolica di licenziare 47 infermieri, tre medici e un tecnico di radiologia motivata con la riduzione dei posti letto, un'iniziativa partita da gennaio per gli esuberi. Loro sostengono che comunque ci sta questo esubero, non so in base a quali dati dimostrano questa cosa, addirittura quando abbiamo fatto la cassa integrazione ci sono stati dei rientri sui ripositi, gli ordini di servizio perché mancava il personale, non ci si poteva prendere ferie, quindi di tutto questo esubero noi veramente non lo vediamo. A volte siamo costretti a lavorare il reparto a due persone di mattina, comunque con una mole di lavoro abbastanza intensa perché non abbiamo personale. L'appello non solo alla fondazione ma anche alla regione e alle istituzioni affinché facciano qualcosa con gli infermieri in siti, in anche una paziente della struttura che è venuta a curarsi in Molise ricevendone giovamento. Che mi ha redatto la vita, poteva, e dopo quell'intervento qua hanno trovato la seconda famiglia che si è occupata di me da sette mesi. Io vengo qua da Ischia per fare le cure, tutto quello, solo che voglio vivere ancora perché ce l'ho altre cure da fare e voglio trovare lo stesso personale che già è la seconda famiglia e qua è la seconda cassa e vengo con tanta piacere qua. Queste le ragioni dei manifestanti ma in giornata i vertici della fondazione Giovanni Paolo II arrivati da Roma hanno incontrato i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori. Sentiamo allora cosa ci ha detto il presidente della fondazione Antonio Cicchetti. Mentre fuori dalla fondazione Giovanni Paolo II ha luogo il sit-in all'interno ai vertici della struttura con il presidente Antonio Cicchetti giunto direttamente da Roma si sono incontrati con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori. Sul tavolo la questione del contratto su cui lo stesso Cicchetti ha fatto delle precisazioni. Nessuno ha parlato di contratto IOP. Noi già abbiamo un contratto del centro e questo contratto è innovato. Adesso in base alla situazione attuale vediamo come si è innovato il contratto. Se siamo dati appuntamento noi gli manderemo una bozza di questo contratto che sarà rispettoso delle leggi ovviamente però che terrà conto della situazione attuale della struttura. Poi Cicchetti è intervenuto sul problema degli oneri del personale e dunque sulla questione licenziamenti. La procedura è stata avviata già da maggio dello scorso anno perché la regione Molise ha tagliato i posti letto della struttura da 180 a 130 a 129, 50 letti in meno. Ovviamente con tutta la buona volontà non si può mantenere lo stesso personale 430 unità con 129 posti letto. Siamo andati avanti fino al 31 dicembre perché poi la regione è intervenuta con la gas interazione in deroga. Adesso non c'è più. Però c'è un fatto nuovo che sta all'orizzonte che è quello del nuovo piano sanitario regionale che noi aspettiamo un'ansia perché è legato al problema degli esuberi di personale. Perché se il piano sanitario regionale così come uscita la borsa diventasse definitivo anche quell'aspetto può essere rivisto nell'itinere delle procedure e questo lo staremo a vedere. Io mi auguro che questo piano sanitario regionale esca il più presto possibile. Almeno avremo un punto fermo di riferimento a cui far riferimento. In questo modo si potrebbero salvare 51 posti di lavoro? In questo modo non so se tutti però certamente una parte si potrebbero salvare. La fondazione Giovanni Paolo II non chiuderà. Ha poi tenuto a precisare con fermezza Cicchetti. Nessuno ha mai paventato questa ipotesi. Ha concluso. Si apre una nuova fase per lo zuccherificio del Molise. Il tribunale di Larino ha infatti accettato il concordato preventivo per evitare il fallimento e dentro la fine del mese verrà pubblicato il bando che metterà in vendita l'azienda. Manuela Iorio. Presto lo zuccherificio del Molise verrà messo in vendita. La base d'asta da cui dovranno partire eventuali compratori è stata fissata tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il via libera al bando di vendita internazionale che probabilmente verrà pubblicato entro la fine del mese è arrivato dal tribunale di Larino che ha accettato la proposta di concordato preventivo avanzato dall'azienda per evitare il fallimento. Sono state dunque respinte le opposizioni che nell'ultima odienza di dicembre avevano presentato alcuni bieticoltori e la Energy Trading, società di fornitura di metano che aspetta dallo zuccherificio il pagamento di una super bolletta di oltre 3 milioni di euro. Secondo i giudici sono congrue le stime che si trovano nel concordato sulla vendita dei beni aziendali il cui ricavato verrà usato per pagare i creditori e far fronte ai 100 milioni di debiti. Dunque si avviene una nuova fase per lo stabilimento saccarifero, l'unico ancora in funzione nel sud Italia e le cui sorti sono state risollevate grazie anche alla ristrutturazione aziendale messa in campo negli ultimi mesi dal manager Alberto Alfieri che ha attuato una politica di razionalizzazione dei costi e di tagli sia nella gestione che nel personale. Il giudice ha anche concesso la possibilità di poter attivare le procedure di mobilità per i dipendenti che ne faranno richiesta. Mentre era già stata concessa la facoltà di anticipare la mensilità della cassa integrazione prevista per i 27 esuberi la cui pratica è ancora in corso al ministero. Gli impiegati hanno già ricevuto una mensilità di dicembre e a giorni ne riceveranno una nuova. Soldi che poi saranno loro a restituire non appena arriveranno quelli della CIG. Santo Stefano frazione di Campobasso è stata classificata dalla regione molise Polo Urbano come Campobasso e Isernia. Per questo motivo non può beneficiare dei contributi pubblici nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Maurizio Di Cristofaro, presidente del comitato di Santo Stefano, si chiede come una piccola frazione rurale di appena 270 abitanti possa essere classificata Polo Urbano, perdendo così la possibilità di usufruire delle misure comunitarie erogate per lo sviluppo delle aree agricole del Molise. Santo Stefano, concluso Di Cristofaro, è una piccola realtà uguale a tutti gli altri paesi confinanti che sono aree rurali. Al Tribunale di Isernia si è chiuso con quattro condanne e due assoluzioni il processo sulle cosiddette patenti facili. Durante gli esami, secondo l'accusa, i candidati ottenevano aiuti in cambio di denaro. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. I fatti risalgono al periodo a cavallo tra il 2004 e il 2005. La squadra mobile di Isernia dell'allora dirigente Alessandro Tocco concentrò la propria attenzione su alcune sedute d'esame alla motorizzazione civile. In cambio di denaro, questa la tesi dell'accusa, i candidati riuscivano a ottenere un aiuto per passare i quiz o attraverso ricetrasmittenti oppure lasciando vuote le caselle delle risposte ritenute difficili. Qualcuno avrebbe poi provveduto a barrare la casella giusta. Dopo otto anni al Tribunale di Isernia si è chiuso il primo atto del processo sulle cosiddette patenti facili. Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Donofrio, ha condannato a due anni e mezzo Giacomo Zullo, all'epoca dei fatti dipendente della motorizzazione di Isernia e assessore al comune di Venafro. Condanne di due anni per Biagio Crolla, gestore di una scuola guida di Isernia, e per Fabrizio Caniglia e Gianluca Iannarelli, candidati all'esame per la patente. Sono stati invece assolti Sara Crolla, titolare di una scuola guida di Venafro, e Colombo D'Antoni, un altro dei candidati finiti sotto inchiesta. Gli imputati erano accusati a vario titolo di corruzione. Corruzione in concorso è falso. L'avvocato Lucio Epifanio, che tutela gli interessi di Zullo, ha già annunciato ricorso in appello. A suo avviso non ci sono né le prove del versamento di somme di denaro, né delle promesse di aiuto ai candidati in difficoltà. Il processo è comunque destinato a finire in archivio. Ad agosto scatterà la prescrizione. Cento polli, diverse decine di litri di gasolio e attrezzi agricoli di vario genere. Il bottino del colpo messo a segno la scorsa notte a Guglionesi ai danni di un agricoltore del posto. L'uomo che si era recato di buon'ora nella sua fattoria di contrada Montantico ha trovato numerosi segni di effrazione e il pollaio desolatamente vuoto. Pertanto ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Guglionesi che ora indagano sulla vicenda. I carabinieri di Palata invece hanno ritrovato gli elettrodomestici, la batteria di pentole, la collezione di monete d'argento rubate a un sessantenne del posto, refurtiva di un valore complessivo di circa 5 mila euro. Era a casa di un 24enne, ora denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Favorire percorsi di occupazione rivolti ai rifugiati e ai profughi che trovano accoglienza in Molise. L'obiettivo di un protocollo d'intesa siglato a termoli tra la Caritas e la provincia. Sentiamo Fabrizio Eccionero. Arrivano dalla Somalia, dalla Nigeria, dai paesi più poveri del mondo. Fuggiti da conflitti, condizioni di sfruttamento e rifugiati in Molise grazie a progetti ispirati dall'accoglienza. Donne con bambini che hanno trovato una casa e possono contare sulla vicinanza delle istituzioni e della Chiesa. Ora per loro si vuole fare qualcosa in più grazie al nuovo accordo tra la provincia e i centri per l'impiego di Campobasso e Termoli e la Caritas della Diocesi di Termoli Larino. Obiettivo del protocollo d'intesa, sottoscritto dal vescovo Gianfranco De Luca e dal presidente della provincia Rosario De Maltese, è proprio quello di migliorare l'occupabilità delle persone inserite all'interno del progetto di protezione richiedente asilo rifugiati che da tempo sta dando i suoi frutti in alcune strutture. Prima di considerare la possibilità di un lavoro vero e proprio si parla di attività di orientamento, di formazione e di tirocini per cui i centri per l'impiego baglieranno tutte le possibilità così come ribadito anche dal responsabile della sede di Termoli Marcello Vecchiarelli e dall'assessore provinciale alle politiche del lavoro Salvatore Micone. Il progetto prevede tre assi di intervento, l'accoglienza mera e propria, la tutela, tutela legale, tutela sociale e l'integrazione che ovviamente è l'asse più importante perché lo scopo finale del progetto è quello di integrare socialmente e professionalmente queste persone. Da qui la necessità di attivare un protocollo d'intesa. Da tempo la diocese di Termoli Larino è inoltre impegnata nel sostegno dei percorsi formativi di orientamento rivolti ai giovani e alle persone svantaggiate. Accoglienza, affermato il Vescovo De Luca, significa anche andare in conto alle problematiche e alle esigenze del territorio basandosi sempre sui valori dell'integrazione e della reciprocità. Giulio Sansoni e Angelo Pisani hanno costituito il Dipartimento Marketing Territoriale e il primo appuntamento del nuovo organismo sarà il convegno dal titolo Le Potenzialità Turistiche della Regione Molise. L'appuntamento al quale sarà presente anche il candidato presidente della Giunta Regionale Massimo Romano è in programma per domani alle 17.30 all'Hotel San Giorgio di Campobasso. Un museo dell'era medievale in Molise sarà realizzato nel castello e nel centro storico di Macchia Godena grazie ad un accordo tra il Comune e un'associazione specializzata nelle rievocazioni storiche. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Il passato medioevale di Macchia Godena si appresta ad essere valorizzato. L'amministrazione comunale ha infatti in cantiere la realizzazione di un museo specifico da allestire nel centro storico del paese. E' quanto si apprende da una recente delibera di Giunta con cui l'esecutivo ha stabilito di siglare un protocollo d'intesa con una società specializzata per poter portare a termine il progetto. Il museo sarà destinato ad ospitare oggetti ed opere a tema medioevale, un'iniziativa che si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione e a Paolo che come viene sottolineato da diversi anni si è impegnata a promuovere la riscoperta della tradizione legata alla cultura medioevale locale. Per questo motivo l'ente ha preso accordi con l'ACORS, associazione culturali e rievocazioni storiche, un'associazione che si apprende nella delibera e promotrice del percorso Ecomusei Molise, progetto di sviluppo economico del territorio comunale attraverso la storia medioevale. Inserito nell'ambito delle iniziative, tese alla valorizzazione e alla promozione della cultura e della storia del Molise, anche mediante l'organizzazione di eventi ed itinerari turistici che coinvolgono castelli, musei, chiese, musica e spettacoli della comunità molisana. Il museo sorgerà nel morgo antico, trovando così la propria collocazione più idonea grazie alla presenza del bellissimo castello medioevale, più precisamente d'origine longobarda, che con la sua suggestiva presenza darà un'impronta ancora più caratterizzante agli allestimenti della nuova sala espositiva. Dal 21 gennaio le iscrizioni scolastiche per l'anno 2013-2014 saranno solo online, con scadenza prevista per il 28 febbraio potranno essere effettuate anche dalla biblioteca provinciale Albino e da altre strutture del polo bibliotecario della provincia di Campobasso. Viene offerta assistenza gratuita dal personale delle biblioteche munite di postazioni internet per tutte le famiglie che ne avranno bisogno. Nei prossimi giorni la biblioteca Albino comunicherà gli orari e le modalità del servizio. Le riflessioni di Pasquale Terzano sul significato dell'esistenza si trasformano in versi nella raccolta di poesie Il paradosso della vita. Il volume è stato presentato nell'aula consigliare del comune di Campobasso. Pasquale Terzano ci presenta la sua raccolta di poesie Il paradosso della vita. Di che cosa si tratta? Sono delle riflessioni soprattutto sulla condizione umana e soprattutto in questo tempo che stiamo vivendo. Sono gli interrogativi che ognuno di noi si pone di fronte alle grandi sfide che la storia ci presenta quotidianamente. È un tentativo di dare una risposta soprattutto a dei bisogni anche personali e anche un po' autobiografico in qualche modo. Perché il titolo Il paradosso della vita? Perché ci sono veramente dei momenti paradossali nella vita di ognuno, soprattutto quando viviamo delle emozioni, quando mettiamo in gioco dei sentimenti, quando ci interroghiamo su qual è il senso e il significato del nostro esistere nella quotidianità, quando ci soffermiamo sull'apparire e non sull'essere. Quindi sono delle situazioni esistenziali che a volte rasendano il paradosso. Fra tutte queste poesie qual è la sua preferita e perché? Ma una preferita no, perché sono anche dei momenti di vita, quindi sono dei momenti di vita molto particolari, quindi sono delle condizioni anche esistenziali di fronte alle quali io ho atteggiamenti anche sentimentali diverse. Direi che le preferisco quasi tutte, insomma, perché mi appartengono un po' tutte, in questo senso. E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci.